Gli Ecomusei e i Musei Comunitari d'Italia e Brasile vi invito a nostro incontro per scambiare esperienze e idee all'incontro presenteremo la carta di cooperazione di Stati Uniti la carta contiene la nostra visione comune le nostre sfide e le nostre responsabilità contiene anche gli impegni di cooperazione il calendario delle azioni da realizzare per lo sviluppo integrale e l'equilibrio ambientale delle nostre comunità e del pianeta partecipa anche tu all'incontro degli Ecomusei e dei Musei di Comunità d'Italia e Brasile e aderisci alla carta di cooperazione di Stati Uniti Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!